Apprendo con mia grande soddisfazione la notizia che i due consiglieri comunali, Angelo Quaglia e Ulderico Paolino, hanno voluto condividere il percorso dell'amministrazione e Alfieri. Il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, commenta così la scelta dei due consiglieri di passare con la maggioranza di governo dell'ente. Ne condividono le scelte e il programma, ha continuato il sindaco. D'altra parte si tratta di due giovani che non hanno responsabilità delle precedenti gestioni e accumunati dal fare qualcosa di positivo per la loro città. Nell'anno trascorso hanno visto le cose realizzate, le decisioni portate all'attenzione della Giunta e soprattutto del Consiglio Comunale, organo all'interno nel quale Quaglia e Paolino hanno più volte avuto il senso di responsabilità di votare le proposte di maggioranza. Il passaggio è stato spontaneo, senza trattative o cariche da assegnare. C'è invece da lavorare condividendo con entusiasmo e passione i quattro anni di amministrazione che abbiamo davanti, sapendo che rappresenteranno per tutti un'avventura vincente. In una fase in cui serpeggiava la parola sfiducia, ci troviamo invece con una maggioranza più solida, più compatta e più forte, che relega sempre più nell'angolo chi ancora pensa di fare politica con tatticismi che appartengono ormai al passato di questa città.